O c'è un segnale che va in questa direzione, Fano recupera un ruolo, oppure io sono per uscire da Marche Nord, perché onestamente è una scelta fatta 15 anni fa, che non è stata condivisa. Fra l'altro alcuni di quei ex consiglieri regionali, che oggi si fanno paladini, quando è stato ora di votare, sono usciti dall'aula. È pronto a prendere decisioni drastiche. Il sindaco di Fano, Massimo Seri, che è sempre più convinto che l'azienda Marche Nord sia stato un errore, dopo la chirurgia H24 tolta da Santa Croce, ora è a rischio anche il punto nascita di ostetricia e ginecologia. È in atto infatti la riorganizzazione del servizio sanitario, che ha visto un'ulteriore riduzione dei posti letto in tutta la provincia di Pesero e Rubino, ma anche la riconversione degli ospedali di Cagli, Fossombrone e Sasso Corvaro in ospedali di comunità con un solo medico a disposizione. L'integrazione si può fare a prescindere da Marche Nord, però c'è o viene fatta funzionare come deve, tutelando anche il nosocomio di Santa Croce, oppure si rimette in discussione e questa volta poi svolgeranno un ruolo anche i nostri consiglieri regionali, con coerenza. Io me lo auspico, ma penso che così sarà. Voglio anche lanciare un messaggio a certa posizione, che sa solo offendere le persone. Io non mi faccio intimorire e probabilmente a queste persone dispiace una cosa, che questo sindaco sta portando a casa un sacco di risultati, cosa che loro non sarebbero stati in grado e lo so, gli rode. Il Movimento 5 Stelle di Fano è infatti andato all'attacco, definendo il sindaco confuso, debole, indeciso e ostaggio del PD. Sì, Ansuini, Miccioli e Ruggeri si domandano come mai gli eletti fanesi di maggioranza in Consiglio regionale, Minardi e Rapa, non abbiano mai rassicurato i cittadini sulle sorti del Santa Croce e dei servizi sanitari. Il sindaco si è mosso tardi, probabilmente forse troppo tardi, perché il progetto regionale del PD è già partito ed è attualmente in una fase molto avanzata. Quindi ci chiediamo se, primo, il sindaco Seri sarà libero di portare avanti questa iniziativa e, secondo, se siamo ancora in tempo per correre i ripari. Se è disponibile a spiegarci qual è la sua linea e noi la troveremo condivisibile, siamo anche disposti ad appoggiarlo. Adesso cosa succederà? Veramente i cittadini fanesi dovranno nascere a Pesaro? A difesa del punto nascita di Fano sono pronti a dare battaglia anche il progetto Fano e Udc. Per Santorelli, Garbattini e Del Vecchio, Ceriscioli e i suoi uomini stanno massacrando la sanità provinciale a favore solo ed esclusivamente della città di Pesaro. Un argomento questo che sarà affrontato anche nel Consiglio Comunale Monotematico di lunedì 18 gennaio al quale parteciperà il presidente della regione. Fano non è Osimo, non è Iesi, non è Fabriano, è la terza città delle Marche, deve avere il suo punto nascita, deve avere la sua chirurgia e vogliamo che anche questo sindaco, il nostro sindaco e la maggioranza alzi la voce su questo aspetto. Visto che il sindaco già oggi ha detto qualcosa, che è in contrasto con quello che dice il capogruppo in Consiglio Comunale del PD, quindi saremo veramente curiosi di vedere cosa verrà fuori nel Consiglio del 18, per il quale però chiediamo un'unità di intenti di tutto il Consiglio Comunale e un grande senso di responsabilità di tutto il Consiglio Comunale per far fronte comune rispetto alla volontà della regione e rispetto alla voglia di predominanza della città di Pesaro.